L'ammazzata presa a Pescara gli ha servita. Riflette tre giorni sulle lacune emerse all'Adriatico e per la notte allo ZAC contro il Padova cambia tre uomini. Gerbo al posto di Zambelli, Busellato per Agnelli e Galano al posto di Chiaretti. L'effetto rigenera il gruppo e Kragl dopo quattro minuti fa subito capire che il Padova avrà vita dura. Il palo del tedesco scrive l'indirizzo della gara che il Foggia interpreta sotto il segno della necessità spostando il baricentro dieci metri oltre la metà campo agli uomini per offendere con deli alle spalle dei due bomber. Cerca subito il gol ma chi lo fa è il Padova sul traversone bizzarro e indeciso nell'uscita e mazzocco di testa facile facile la mette nell'angolo basso. Sul nonno portiere lo ZAC scarica il disappunto. La reazione scatena Mazzeo che cerca perdono dopo il rigore fallito con il Pescara. Non glielo concede l'arbitro che gli annulla un gol in fuorigioco. Ma c'è il tedesco col mitra spianato a suonare la carica. Due volte Kragl su cross di Busellato. La prima di sinistro, la seconda di testa. Merelli si esalta. Il Padova va a riposarsi in vantaggio dopo la frittata di Bizzarri nel finale della prima frazione. Regala una palla ad una maglia bianca e quella di Vincenzino Sarno che non se l'aspettava. Grassadonia è sulla graticola. Si gioca la panchina nella ripresa. Prima mossa dopo 11 minuti. Fuori Busellato dentro Cicerelli. Serve più spinto in avanti. In avanti ci va anche Camporese. Fa gol ma l'arbitro glielo annulla fuorigioco. Anche questa è una notte sdregata. Grassadonia brucia dalla graticola. Lo toglie Kragl. Per il tedesco una punizione è come un rigore. La firma dell'uno a uno è sua. Ma dovrebbe esserci anche quella del portiere. Grassadonia respira. Vede l'uscita della sala rianimazione. I suoi riprendono a sfondare la porta. Una zampata di Galano trova Merelli pronto. Rossoneri all'offensiva riscono dietro. Ma nella notte allo zacchi i patavini ballano i lisci di Casadei. Uno dietro l'altro. Mentre il Foggia o meglio Kragl continua a sparare pallettoni. Oltre a produrre traversoni devastanti. Sul primo sbaglia Martinelli a porta sguarnita. Sul secondo, respinto da un difensore, Cicerelli applica il manuale del tiro a volo. Per Emanuellino la notte magica. Per il Foggia rimonta il riscatto. Per Grassadonia esame superato.